Va all'Acri lo scontro tra le inseguitrici delle prime tre della classifica della prima promozione Girone A. Vince la squadra Cosentina con la Mantea per 2-1 grazie alla doppietta di Feraco, un gollo su calcio di rigore, mentre per la Mantea si è assegnato Pirillo. Dicevamo la partita fuori i secondi nel quanto le due squadre cercano di mantenersi nella zona playoff, anche se ormai sono già 11 punti quelli di distacco tra le seconde e le terze rispetto alle inseguitrici. Quindi è probabile, come abbiamo sempre sostenuto, che in questo girone le semifinali dei playoff non si facciano, ma si faccia direttamente soltanto la finale con Belvedere, Rossanese e Praia che scappano. Oltretutto il Belvedere oggi è stato battuto proprio da una Rossanese che doveva senz'altro riscattare la partita della sconfitta fra settimanale contro nel recupero. Comunque tornando alla squadra Cosentina, mantiene ancora la possibilità, quindi come dicevamo, di mantenere. È stata una partita bella, ben giocata, che l'Acri ha fatto sua sin dai primi minuti.